Giornata piena, questa dell'8 luglio, Roberto Forti con l'oroscopo degli angeli, ora segno per segno il contatto gelico che determina l'energia per la giornata di oggi, l'orosco podcast da riascoltare, se volete su Radio Raccontiamoci, oltre che qui in diretta su Cluster FM, saluto tutti gli amici del Cluster. Ci siamo? Ci siete attenti? Se no lo riascoltate, a riete, a riete, una novità interessante per la riete, potrebbe proprio manifestarsi, cioè crearsi nella giornata di oggi, voi dovete dare un po' un aiuto però a questa manifestazione, sta a voi crescere. Toro, per il Toro posizione ferma, avete deciso, ecco la decisione è stata presa, ora dovete lavorare nel contorno, cioè fare in modo che questa decisione abbia un seguito. Gemelli, attenzione ai falsi allarmi, attenzione, insomma un po' una giornata da maglia della salute, anche piccoli acciacchi di stagione, copritevi, fate in modo insomma di tenervi al riparo. Cancro, abbiamo un arcangelo che vi aiuta oggi, Michael, vi porta però un po' il peso e la leggerezza della giustizia. Leone, da amministrare quindi, attenzione, leone, leone, nuovi orizzonti, nuove luci si accendono, nuove prospettive, passo dopo passo però, passo dopo passo verso le nuove luci. Nati sotto il segno della Vergine, energie oggi di Jababia, energie che servono per far fiorire un nuovo giardino, quindi cercate nuove prospettive un po' più avanti, anche che siano lontane nel tempo, il tempo di una fioritura. Bilancia, invece per la bilancia al contrario, qui non abbiamo tempo, qui dovete risolvere qualcosa, altrimenti si apre una crepa davanti voi rischiate di cadere in qualcosa da cui sarà difficile uscire. Scorpione, aiutatevi che il cielo vi aiuta, ma non solo, aiutate anche, perché questa è la missione dell'angelo di oggi, aiutare. Seheia vi segnala che qualcuno ha bisogno di voi. Sagittario, il giusto momento per lo studio, ma soprattutto voi sapete che c'è l'occhio del grande architetto che è sempre su di voi, ci accompagna, ma non dobbiamo aver paura del grande architetto, dobbiamo studiare progetti insieme al grande architetto. Capricorno è Melahel, l'angelo di oggi, l'angelo che vi fa attraversare anche il mare, vi sposta le acque, però voi dovete camminare, dovete riuscire a muovervi. Acquario, molte energie piacevoli nella giornata di oggi, una giornata in cui se avrete possibilità di meditare avrete il piacere di abbandonarvi alle energie degli angeli, quelle più creative e positive. Nati sotto il segno dei pesci e lo scudo di assaglià che oggi vi difende da qualsiasi circostanza avversa, voi potete soltanto stare comodi ed accettare la realtà. Io vi aspetto sul sito, sulla pagina, poi non è un sito, è una pagina Facebook di Angeli e Meditativazione e il sito di Radio Riaccontiamoci se volete riascoltare in podcast questo oroscopo.